Se state avendo difficoltà ad avviare il gioco Rust in questo caso è possibile risolvere il problema come puoi vedere qui dice che Steam non è aperto quindi in questo caso devi riprovare ad aprire Steam quindi anche se tieni Steam aperto e continui ad aprire Rust il gioco non si apre quindi in questo caso possiamo direttamente provare a disconnetterci dal nostro account Steam e riconnetterci oppure direttamente cambia account facciamo così continua cambiamo l'account su Steam io ovviamente rimetto questo qua mio personale rientro qua sopra vado nella libreria se non dovesse funzionare ci clicchiamo sopra andiamo su impostazioni vai su proprietà vai su file installati sfoglia i file locali scendi fino a giù fino a eliminare così l'applicazione Rust è Rust client una volta fatto chiudiamo un attimo qua chiudiamo di nuovo Steam avvio di nuovo Steam vado nella libreria Rust rotellina gestisci sfoglia i file locali ovviamente come puoi vedere non ci sono quelle applicazioni che abbiamo cancellato quindi in questo caso facciamo proprietà file installati verifica integrità dei file del gioco due file non sono stati convalidati e verranno riscaricati ovviamente ha fatto tutta questa lunga procedura solo per riscaricare due file quindi in questo caso andiamo così ad aprire il gioco grazie a tutti ed ecco che il gioco si è avviato senza nessun problema senza che è uscito quell'errore là quindi in questo caso il gioco è andato perfettamente quindi in questo caso il gioco è andato perfettamente quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao ciao